La Regione Abruzzo sta pensando ad un protocollo Mazzocca con gli ordini professionali per iniziare un discorso diverso per quanto riguarda il controllo dell'agibilità degli stabili pubblici e privati nella nostra Regione. È fondamentale andare a verificare non solo l'agibilità di un edificio, ovvero la possibilità di utilizzarlo in tempi più o meno relativamente brevi, così come era utilizzato prima dell'evento, ma quanto e soprattutto il livello della vulnerabilità degli edifici, ovvero lo stato di salute dell'edilizia storica sull'intero territorio per quanto ci riguarda regionale. Non è un discorso che si può fare in 4 e 4 e 8, né con tempi brevissimi, è un discorso a medio termine, ma che secondo noi va avviato e ora è il momento di non procrastinare oltre le attività. Per fare questo state pensando ad un protocollo con gli ordini professionali? Noi abbiamo già avviato i primi contatti con gli ordini professionali affinché si possa appunto nel medio termine attuare una strategia che stiamo lavorando in queste ore e che è involta a vedere appunto lo stato di salute del nostro patrimonio inizio storico affinché qualora purtroppo torni a verificarsi un evento, una scorsa dell'Urica, della stessa tipologia e entità di quella verificatasi il 24 di agosto ci si possa trovare pronte e quindi possiamo sapere a monte qual è la situazione e che tipo di attività a livello preventivo noi possiamo e quindi in base a questo piano dovremo svolgere. Grazie